Il colesterolo è qualcosa di cui preoccuparsi? Assolutamente no. Se ti hanno detto che il colesterolo è qualcosa di cui aver paura ti hanno sicuramente dato un'informazione sbagliata. In realtà il colesterolo è antinfiammatorio, è un elemento che il nostro corpo produce per andare ad eliminare un tipo di infiammazione che può avere diverse cause. Un colesterolo totale, alto, non ha nessun motivo di preoccupazione. Poi bisogna vedere cosa vuol dire alto. Tantissimi anni fa, 30 anni fa, un colesterolo accettabile era intorno ai 280. Adesso viene considerato alto un colesterolo sui 200 e per alcuni laboratori addirittura 190. Questo non è assolutamente un parametro perché comunque il valore da considerare non è il colesterolo alto ma i rapporti tra tutti i valori che riguardano il colesterolo, quindi LDL, HDL, trigliceridi. Poi devi sapere che il colesterolo appunto è prodotto dal nostro corpo in misura dell'80%. Quello che noi ingeriamo, quello che noi produciamo attraverso il cibo è un misero 20% ed è comunque sempre da considerare a livello generale come un grandissimo antinfiammatorio. Quando vai a fare gli esami per il colesterolo fai un profilo lipidico completo, valuta la presenza dei trigliceridi, quanto sono alti, sono quelli il vero pericolo, ma i trigliceridi non aumentano mangiando grassi sani, non aumentano mangiando le uova, la carne, il burro, aumentano a causa degli zuccheri e quelli sì sono molto pericolosi perché possono produrre tanti problemi, acidi urici, problemi al fegato eccetera, ma non è il caso del colesterolo. Poi quando vai a fare un profilo lipidico completo ti fai anche un'analisi dell'insulinemia, dell'emoglobina glicata, un profilo che ti dia proprio lo specchio completo della tua salute dal punto di vista metabolico e non ti devi soltanto preoccupare del colesterolo, anzi non te ne devi preoccupare affatto. Molto spesso le persone pensano di avere un colesterolo alto e vengono riempiti di farmaci sotto forma di statine che sono il farmaco oramai più venduto al mondo, ma considera il colesterolo non come il tuo nemico, consideralo come un tuo alleato e se per caso sei una persona con un colesterolo alto valuta la possibilità che tu sia un hyper responder, quindi anche se sei molto magro, molto attivo potrebbe il tuo corpo produrre fisiologicamente tanto colesterolo, ma anche lì non c'è assolutamente nessun problema perché sono i parametri del tuo corpo, valuta la tua salute a livello generale, valuta come ti alimenti e non ti preoccupare del colesterolo perché hai davanti a te una persona che sarebbe assolutamente fuori parametro in base alle linee guida, eppure sanissima, che sta benissimo e che non si è mai sentita meglio.